Le veline! Non hai la minima idea di quello che ti aspetta. Il signor Wick ha infranto le regole. Lei capisce che ci saranno conseguenze se sopravvive. John Wick, la scomunica è ora in vigore. Non dovevi venire qui. Bel vestito. È bello rivederti. Mi serve il tuo aiuto. Il mio ventorino. Sarai tu a dovermi qualcosa. Non hai possibilità di fuga. La gran tavola vuole la tua vita. Una bella vita arriverà. Vogliamo mettere a proprio agio il nuovo ospite? Ma certamente. I servizi sono ancora off-limits per me. Cosa ti serve? Armi. Tante armi. Capito? Ma i coglioni sono due. Sono due coglioni. Andiamo! Tu quindi pensi di poter fermare John Wick? Cosa è diventata questa città? Sappi che ti aspettano brutte sorprese. Sognavo di incontrarti. Da tanto tempo. E finora? Non mi hai deluso, John? Possiamo continuare quanto vuoi. Inizialmente, non so, Mendoza. E' Dio! Dio, Dio. Dio, 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 Dio! Inizialmente, non so, ma senti un sacco di amministrazione. E' Dio! questo per cosa? Per un cagnolino. Non era solo un cagnolino. Tutto l'ombilico non vado, è un fatto di diontologia professionale. Grazie a tutti.